Musica Buonasera dalla redazione di Irpia News, benvenuti ad una nuova edizione del nostro TG. Apriamo subito con la cronaca e con la denuncia di un giovane irpino ritenuto responsabile di truffa telematica. I particolari nel prossimo servizio. Gli agenti del commissariato di polizia di Sant'Angelo dei Lombardi hanno denunciato un 21enne perché responsabile del reato di truffa. La denuncia è scattata a seguito di accurate indagini che hanno consentito di accertare la responsabilità dello stesso in ordine ad una truffa messa in atto attraverso un sito internet. Nella circostanza infatti il 21enne aveva posto in vendita al prezzo vantaggioso di 90 euro un mini tablet per il quale aveva già incassato la somma di denaro senza però mai spedire il prodotto all'incauto acquirente. Scoperto il maltotto, agli agenti non è rimasto altro che denunciare il responsabile. E ancora cronaca in primo piano nel nostro TG con l'arresto di un pregiudicato della provincia sorpreso a Napoli dai carabinieri in possesso di droga. Tutti i particolari nel nostro servizio. Era in trasferta a Napoli per spacciare droga ma è stato arrestato dai carabinieri e è accaduto a Scampia dove un 41enne, già noto alle forze dell'ordine, residente a Sant'Angelo a Scala, è stato colto in fragranza dai militari del nucleo radiomobile di Napoli. Il blitz si è materializzato in uno dei luoghi maggiormente frequentati dagli assuntori di sostanze stupefacenti, lungo viale della resistenza, a Scampia. Evidentemente, mentre mettevano in pratica i controlli finalizzati al presidio e alla legalità territoriale, i militari dell'arma stavano pedinando da tempo le mosse dell'Irpino e ad hanno atteso il momento giusto per incastrarlo. Cambiamo pagina e passiamo alla politica. In vista del congresso provinciale del Partito Democratico ha parlato ai nostri microfoni l'ultimo vice segretario di via Tagliamento, Francesco Todisco, che ha dichiarato che aveva invocato il rinnovamento, poi si è schierato con chi invece andava rottamato queste le stoccate del vice segretario del PD, Francesco Todisco, in chiaro riferimento alle posizioni assunte da Famiglietti e dalla D'Amelio. Con questa notizia di politica noi cambiamo ancora pagina e passiamo allo sport con il calcio. In primo piano l'Avellino di Mr. Rastelli si è allenata nel pomeriggio a Torrette di Mercogliano, tra i vari assenti anche Zappacosta, reduce dall'impegno con l'Under 21 di Mr. Di Biaggio, Zappacosta che ieri è stato proprio autore dell'assist che ha permesso agli azzurrini di vincere contro il Belgio. Intanto nel pomeriggio ha parlato in sala stampa a Terracciano. Ascoltiamo adesso uno straccio dell'intervista al portiere Biancoverde. Diciamo che è stata una doppia amarezza la sconfitta di Siena perché vedere tutta quella gente che ha fatto tutti quei chilometri e sostenerci anche sul 3-0 è stato stupendo. Infatti dispiace anche per loro perché vediamo la passione che ci mettono ogni partita e noi cerchiamo di ripagare tutta la loro fiducia e il loro sostegno. Ed è tutto anche per questa edizione del nostro Tg. Una buona serata dalla redazione di Irpina News. Un'altra buona serata dalla redazione di Irpina News. Un'altra buona serata da l'intervista al portiere. Un'altra buona serata dalla redazione di Irpina News. Un'altra buona serata dalla redazione di Irpina News. Grazie a tutti.